uno dei pittori fondamentali per la comprensione della cultura figurativa del seicento nella lezione di anatomia del dottor tulp eseguito nel 1632 e conservato nel museo maurizuis di laia fornisce un'immagine molto eloquente delle grandi problematiche del diciassettesimo secolo la gilda dei chirurghi di amsterdam commissiona l'opera al 26enne rembrandt per ricordare la lezione pubblica che il dottore tenne sulla fisiologia del braccio sul cadaveri di un condannato a morte rembrandt si riallaccia al genere del ritratto di gruppo è probabile che egli conosca i ritratti di gruppo cinquecenteschi come nel quadro la sepoltura del conte di orgaz di el greco la modernità di rembrandt consiste nella naturalezza con cui raffigura i personaggi colti nell'immediatezza del movimento analizziamo adesso le caratteristiche formali dell'opera leggiamo nella composizione se osservi bene ti accorgi che nel rendere un omaggio alla luce di caravaggio e ai suoi scorci anatomici rembrandt fa in modo che la luce colpisca gli elementi significativi con grande forza realistica proprio sul cadavere infatti si concentra la maggiore quantità di luce mentre le gorgere e gli altri particolari dell'abbigliamento isolano i volti e li rendono perfettamente riconoscibili i particolari superflui vengono assorbiti dall'ombra non è un'immagine in cui lo spazio viene descritto attraverso la successione dei piani ma piuttosto attraverso l'incrocio delle direzioni osserva ad esempio la linea su cui si sviluppa l'immagine del cadavere come essa si articoli e si incroci con le linee molteplici suggerite dalle spalle dalle braccia dalla direzione degli sguardi dei personaggi l'unico punto fermo dell'immagine è la grande macchia scura del dottor tulp in cui si descrivono i suoi gesti misurati la posizione delle sue mani serve anche a dare il senso esatto della profondità della scena grazie a tali accortezze compositive rembrandt realizza un'immagine asimmetrica ma perfettamente bilanciata l'immagine del personaggio sul versante sinistro il libro sulla destra l'arco della parete di fondo sono i tre elementi che conferiscono stabilità allo spazio in cui si rivela il dinamismo dei gesti rembrandt nel quadro testimonia il procedere di una lunga e autorevole tradizione era stato già leonardo infatti con i suoi studi anatomici a indagare il corpo questo è per la nascente scienza moderna prima di tutto un oggetto da esplorare e su cui verificare le teorie mediche della tradizione antica e medievale la via indicata da leonardo cioè della necessità di intendere la conoscenza come figlia della osservazione diretta dei fenomeni viene portata avanti dalla filosofia e dall'arte del diciassettesimo secolo a partire dalla prima metà del sedicesimo secolo infatti a testimonianza dell'interesse crescente verso lo studio del corpo umano si diffondono incisioni e testi di anatomia ad uso medico l'opera determinante di questo genere è la de umani corporis fabbrica di andrea vesaglio pubblicata a basilea nel 1543 nel frontespizio di vesaglio l'ambiente raffigurato è un teatro anatomico di impianto architettonico classicheggiante simile al celebre teatro anatomico di padova in cui la regista liliana cavani ha ambientato una delle scene del film galileo del 1968 come puoi osservare rembrandt cita il frontespizio del trattato di vesaglio nella posizione centrale del cadavere e nella disposizione delle figure intorno a questo rembrandt come nell'incisione che ritrae vesaglio raffigura la scena della indagine sulla fisiologia del braccio e della mano è un particolare molto importante come ha scritto svetlana alpers in questo dipinto rembrandt è interessato allo strumento essenziale dell'attività del pittore